si chiude in positivo il 2022 per il manufatturiero lucchese un anno con il segno più quindi per la produzione industriale sul territorio con quasi tutti i settori in crescita nonostante un 2022 difficile a causa del caro energia e dell'inflazione i risultati dell'ultima rilevazione sono stati presentati questa mattina 7 febbraio con la presenza tra gli altri del presidente di confindustria toscana nord daniele matteini un'occasione per tracciare il bilancio con il vicepresidente di confindustria tiziano pieretti che ha sviscerato i dati del comparto lucchese dai dati del 2022 sicuramente lucca esce come manufatturiero con un più 2 per cento rispetto all'anno precedente chiaramente un dato aggregato generale di tutti i settori abbastanza positivo ci sono ovviamente settori che spiccano un po di più con un più 7 per cento ad esempio della nautica si va a finire diciamo con alcuni settori in negativo e quello un pochino più elevato è quello della moda che ha un meno 4 per cento e invece per quanto riguarda il cartario c'è una piccola contrazione del 0 4 per cento che però ovviamente non preoccupa più di tanto in quanto riferito all'anno precedente quindi dove c'era stato un più 6,4 per cento chiaramente siamo all'interno di un di numeri abbastanza stabili e che consolidano una posizione importante a lucca vola anche l'export che nei primi nove mesi del 2022 sfiora il più 20 per cento confindustria guarda al 2023 con ottimismo un anno in cui come sottolineato da pieretti si potrà ricominciare a costruire le basi per il futuro resta sotto osservazione la delicata situazione legata agli 80 esuberi alla corber di mugnano la corber è sicuramente una situazione critica che va tenuta monitorata a mio avviso rientra all'interno di un meccanismo di alti e bassi che il settore ha sempre caratterizzato ovviamente quella è una posizione da tenere in forte osservazione però secondo me non è così rappresentativa di tutto il settore di tutto il settore delle macchine quindi ci sono delle distinzioni da fare grazie